allora centro oggi è il 10 gennaio no ho visto lì il cartello quello là che che dice inizio lavori 2013 maggio 2013 consegna maggio 2014 ultimazione dei lavori maggio 2014 alle elezioni praticamente alle elezioni comunali ma tu ti ricordi quando se ne parlò il consiglio comunale che c'era io avanzai dei forti dubbi sulla durata di un anno di questo lavoro perché c'era l'emergenza dei salmi c'è ancora l'emergenza c'è c'è ancora ma io già all'epoca avanza i forti dubbi sulla durata c'era però ad oggi sono veramente scoraggiato e demoralizzato perché io io non ne capisco ma tu che sei del mestiere no ma insomma qua stiamo a carissimo amico oggi è il 10 gennaio 2014 questo a maggio non avranno ultimato secondo me non avranno neanche iniziato il cemento annaggia la miseria ma come io sto a ritaglio sto spigna a stefano stefano di muove fa pure il cimitero secondo me ti sei preso un candidato non arriva ma come non arriva non ci riesce a fare queste cose ma che figura ci faccio che gli dico a gente chiedo scusa e chiedo scusa io di come sono sbagliato ma non è che ti sei tu sei non lo vedi da te insomma non puoi dire che stefano lo spingi perché farà il cimitero il cimitero non si può fare annaggia la miseria ma io adesso vorrei fare una verifica anche sui dati delle ditte delle cose se la ditta ma no perché poi vedi a coppe costruzioni questi sopporti questa è una hanno dato il subappalto a un'altra costruzione un'altra cosa un'altra che poi si è tirata indietro si si da consiglio comunale ma scusa un attimo io io ti do l'incarico a te di fare una cosa e poi tu fai il subappalto a roma di una ditta di roma tuscolana non so l'impresa ma si ho letto ma quella gestiva gestiva poi si vendeva i fornetti e tumbe allora non lo so e non è mai limpida la cosa ma insomma tu mi dici che qui tecnicamente non c'è se fa scusami dottor cristofanelli carissimo qua nemmeno avranno fatto finito le recensioni maggio e domani rifaccia la solita figura e ho capito se sposi tutti per tutte situazioni sbagliate ma vabbè ma stefano ha fatto un sacco di cose fatte bene affrascati vabbè trova meno tu quelle che hai fatto elencare che poi non ho capito perché hanno dato a sta cosa roba con tutti i soldi che ci avevamo di anagnina 1 tutti quei milioni che sono arrivati no con quello ci hanno pagato un po di debiti pregressi vabbè ma soltanto 7 quando c'era il dissesto finanziario che ancora per male come dopo anagnina 1 ancora stiamo tu dici ma no perché lì si evitò il dissesto finanziario non è possibile e come no hanno deliberato di votare un debito del 2007 all'aspe di ciampino che ci forniva i pasti alle mense dei bambini il 2007 di oltre 630 mila euro complessivi vabbè ma devo un cassammione 740 la e mense tu allora credi alle favole tu lo sai perché vedi tu invecchi ma non cresci perché credi ancora alle favole e non cresci perché ancora credi al bobo perché abbiamo pagato 630 mila euro 120 670 mila euro a stazione dei frascati ha detto che la faceva ma che cosa a stazione basta e va giù e vedi i pensilini e ora comparo dei mesi la via tutto non c'è niente che c'è niente no per ditte che non è bobo ma la pensilina l'ha fatta le ferrovie italiane non è quello il parcheggio però scusa ma sì il parcheggio ce lo mettono sopra la sua pensilina di la miera è tutto pronto sotto hanno fatto tutto ma che stiamo a scherzata insomma date tu un consiglio non credi al bobo credi al bobo mauro brunetti ma quello è il bobo che dice un po di verità insomma pure qua toppato io non vedo si farà ma io non credo che si faccia con i tempi previsti ma sai se c'è stava emilio fede faccia che figura di merda grazie 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 grazie